Buonasera. Questo è il World Catastrophe Killzone di Bartmell. Andiamoci a contatto con... Brenda, che stai facendo? Ecco, l'ho trovato. Presto, presto! Riparatemi, riparatemi, stato sparando a terra! Corri, corri! Presto! Cazzo, cazzo! Corri più veloce! Andiamo, abbiamo poco tempo! Seguitemi! Di qua, seguimi! Blocateli! Sbrigati! Obbiattivo avvistato! Li abbiamo raggiunti! Muoviti! Cazzo! No, ci servono vivi! Ehi! Non muoverti! Brenda, dove andiamo? Oddio! Thomas, muoviti! Andiamo! Possiamo dare inizio alla fase 2. Benvenuti nella zona bruciata! Il mondo esterno è tenuto insieme da un filo molto sottile. Oltre questa porta, inizieranno le vostre nuove vite. ero bene! Grazie.